Un piccolo archivo sulle discipline invernali, vorrei capire se è corretto, intanto parte la gara con la Bjorgen che ha 10 secondi sulla Follis, Marco diceva da Pordenone, vorrei capire se è corretto considerare le vittorie al Tour de Ski, alla stregua di quella di Coppa del Mondo, Mondiale Olimpiadi eccetera. Comunque è scandaloso che nel sito della FIS stessa non si riesca a reparire il risultato della tappa, mi sa che siano loro i primi ad essere un po' confusi. No, l'idea ce l'hanno però il meccanismo va oliato. Poche idee molto confuse dai onestamente, i conti ce li siamo dovuti fare da soli per avere i tempi esatti della tappa, poi ripetiamo che non condividiamo l'interpretazione della FIS secondo cui chi vince la tappa comunque ha vinto una gara di Coppa del Mondo, chi arriva secondo di tappa non è mai salito sul podio in una gara di Coppa del Mondo, c'è qualcosa che non torna al mio modo di vedere. Comunque insomma siamo alla partenza di questa gara femminile dove possiamo credo continuare a sperare di vivere questo clima assolutamente di festa azzurra perché è arrivata la conferma. Quello che Massimiliano aveva detto insomma nella specialità e nella tecnica a nostra favorevole devono per forza arrivare i risultati che abbiamo aspettato per tutta la stagione e sono arrivati in effetti. Oggi è una gara difficile da leggere, sicuramente Kalla potrà fare la differenza non escluso che ritorni addirittura su Bjorgen. A Follis non so quanto convenga fare un grandissimo sforzo iniziale per andare a riprendere Bjorgen, abbiamo visto che nella gara maschile c'è stata grandissima selezione di stacchi abissali, la gente che partiva per rinunciare il tour deschi oggi ha portato a caso un minuto di distacco che è veramente tanto. E qui a mio modo di vedere malgrado una distanza sia inferiore potrebbe accadere la stessa cosa. Ricordiamo che sono 10 km da percorrere per le donne, non ci sono buoni però c'è un discorso anche insomma vale quello che vale però è importante, l'Italia oggi ha molte chance di vincere la classifica per nazioni. Esattamente, ha grande chance di vincere la tappa per nazioni, è in testo ovviamente dopo la prova maschile con il primo e il secondo posto con tantissimo vantaggio sul resto della compagnia che si chiama oggi Repubblica Ceca. Il che è abbastanza sorprendente, la Repubblica Ceca non ha donne in grado di ottenere risultato in campo femminile, conseguentemente per la vittoria di tappa a squadra. Ovviamente l'Italia si deve guardare dalla Germania ma credo che la coppia Folli-Svalbusa possa tenere testa tranquillamente alla coppia Sakenbaker-Zellero-Seller-Kunzel-Kunzel-Sakenbaker. Vedremo chi delle tre farà meglio. Perché valgono i quattro migliori tempi, due donne e due uomini da combinare. Ma l'idea è che Folli sia partita leggermente più forte di Björgen, tanto è vero che sta lentamente tornando sulla norvegese. Dietro si vede Kovacic e si trascina Kuitunel. Ecco, Kuitunel potrebbe essere un grosso punto interrogativo per la gara di Erna. Potrebbe perdere un minuto e quindi dover recuperare poi tantissimo domani oppure riuscire a mantenere il passo di Kovacic e Kalla che arriverà in seguito e tornare su Björgen. Marco, insomma, è della sua idea. Marco Albarello sul fatto delle vittorie di tappa. Giustamente, noi abbiamo dato una nostra interpretazione, però abbiamo anche spiegato come la FIS considera le cose. E anche Marco, insomma, dice oggi per quanto riguarda la gara maschile, chiaramente il più veloce di giornata è stato Pietro Pillar-Kotrer, però teoricamente, appunto, in base all'indicazione della FIS ha vinto Bauer. Però, insomma, abbiamo già spiegato le differenze. Direi che, insomma, le abbiamo sviscerate le cose. Adesso concentriamoci sulla gara e su altri motivi poi di discussione. Roberto Danichelino, provincia di Torino, chiede ma quante possibilità ha Arianna Pollis di vincere il Tour de Ski e la Coppa del Mondo Generale? Le due cose sono legate. Sì, Coppa del Mondo Generale direi zero, al di là di la vittoria del Tour de Ski, che è comunque molto difficile. Credo poche possibilità, ma chance di arrivare nelle prime tre, cinque posizioni ci sono. Tanto Enrico Bezzuli da Codogno dice, e ora sotto da Arianna e a Sabina, con quattro e tre anni in e nove, questo Tour de Ski mi sarebbe piaciuto anche se fosse stata la competizione più noniosa della storia dello sci. Tanto Pollis ha quasi ripreso Bjorgen, anche se qui la prospettiva tende un po' ad ingannare. A sua volta Kowalczyk sta per staccare Kutunen, rientrando su Arianna Pollis. Da dietro sta risalendo a velocità doppia Charlotte Calla, che è già in quinta posizione. Il distacco comunque è ancora importante per la Calla, pagherà almeno una ventina di secondi rispetto a Kutunen, però guardate come sale da dietro. E l'abbiamo già visto, insomma, nella prima gara di questo genere, a Nove Miesto, quello che è successo. Credo che un po' tutte le altre temano il recupero alla Pietro Piller-Cotra della Calla. Comunque questa situazione è abbastanza forte da Bjorgen, perché Kutunen si stacca. Ovviamente Bjorgen rispetto a Follis vale 40 secondi in meno nella gara di domani, minimo. E quindi farsi raggiungere dall'italiana non sarebbe poi un problema. Ecco, l'incognito potrebbe essere Giustina Kowalczyk, perché se in forma in alternato può andare forte quanto Bjorgen. C'è stato il ricongiungimento di Arianna Pollis sulla Bjorgen. Allora, intanto chiede un altro amico se Teichmann invece può vincere, può andare sul podio nel Tour de Ski. Beh, si è un po' nascosto finora, però direi che ha fatto bene, soprattutto nel finale. Oggi è andato forte, ha fatto segnare uno dei migliori tempi. E credo che possa dire la sua, domani scalerà posizioni nella classifica. Arrivano delle tappe favorevoli per Teichmann, esattamente quella di domani. E quella poi che si disputerà in Val di Fiamme è la prima. Ad Asiago si deve difendere. Nella squadra del Cermis, boh, non sova lui tardi. In molti dicono, veramente è quasi un plebiscito, ridateci la Gundersen nel calendario di Coppa del Mondo. Per esempio Marco Albarello è stato molto importante nel dare dignità alla gara in alternato della Gundersen. Anche lì sono cambiate un po' di cose, la Gundersen sicuramente sarebbe da riscoprire. Tanto Giustina Kovacic ha raggiunto Bjorgen e Follis, Kutunen secondo me non si riporterà sotto a meno di un rallentamento di quelle che sono davanti. Aspettiamo il transito di Charlotte Galla che pagherà una ventina di secondi abbondanti nei confronti di Bjorgen, ma da qui in avanti potrebbe anche rientrare. Bene Sabina Valbusa che la vediamo lì. Bene Natalia Corosteleva che ha scavalcato diversi atleti e si riporta adesso su Astrid Jacobsen e a breve la scavalcherà. L'altro a un certo punto sembrava davvero potesse anche quasi vincere la prima gara di 9 e mezzo ad handicap Schetting perché la parita forte è anche nella seconda giornata. E' calata nel finale Natalia Corosteleva che comunque credo sia già nona e scavalcherà la Jacobsen credo tra pochi metri. Valbusa lì è attaccata così come Sakenbacher. Se andiamo a vedere i tempi di partenza la vittoria di tappa al momento se la giocano Giustina Kovacic che è partita molto forte e Charlotte Kall ma più Giustina Kovacic che ha vantaggio nei conforti di Kall in questo momento. Un'altra considerazione Massimiliano. La Follis ha fatto una grande fatica nel primi 5 chilometri della seconda tappa per chiaramente recuperare terreno. Qui ha la possibilità di gestirsi bene diciamo per i chilometri finale? Intanto adesso secondo me può rifiatare. Mentre comunque nella gara che si è disputata tre giorni or solo aveva spinto a tutta nei primi 5 chilometri. Qui può rimanere sulla scia di Bjorgen che sicuramente non imporrà un ritmo Folli alla gara. Alla Bjorgen è sufficiente aver staccato Kutunel che è un po' lo spauracchio. Poi ovviamente tenteranno di allungare ma adesso si cerca di risparmiare qualcosa. Vedremo se Kutunel riuscirà ad attaccarsi a Kalla nel momento in cui Kalla la raggiungerà e credo tra 2-3 chilometri. Intanto salutiamo anche Fabrizio da Piano Romano che dice Per quanto riguarda il Tour de Ski può ereditare il brutto vizio tipico del ciclismo di far vincere i cosiddetti ragionieri? Era il soprannome di Prost nella Formula 1 questo. Però non lo so insomma qua chi ne ha vince eh. Sì beh parliamo di atleti che vanno forti un po' dappertutto per trionfare nel Tour de Ski di ottenere risultati in tutte le gare. Però davanti non è che stiano staccando la Kutunel più di tanto per cui credo che Bjorgen si debba dare una mossa perché se la Kutunel rientra sicuramente si avvantaggia parecchio in prospettiva gara di domani. Eh ma è prospettiva Tour de Ski perché Taichman è pericoloso quanto Kutunel praticamente per quelli che sono davanti. O quelle che sono davanti. Ci sono 5-7 secondi tra Bjorgen e Virpi Kutunel e ne avrà una ventina in questo momento Charlotte Kalla che credo stia rimontando. Bene anche Mischel che si mantiene a circa 6 secondi dalla calla e poi sta rinvenendo il gruppetto di Corostele, Vavalcusa, Sakenbacher e via dicendo che provano ad andare a riprendere anche la Ropone in alto a finlandese che nelle prime posizioni. E non può essere confuso ovviamente con Pierio Mannine che è di altra mole. Mannine che è stata seconda nella sprint e non Ropone che però aveva giunto la finale B che è stato un buon risultato per lei. Sempre in tre con dietro la Kutunel ad inseguire. Ricordiamo che non sono partite l'Estone-Sirghie e la Vevel, la francese. Sì, quindi due ragazze che hanno fatto bene nella prova sprint. Adesso si è portata Follis davanti e il ritmo forse diventa leggermente più sostenuto. Kalla vede Kutunel, la raggiungerà tra un chilometro e mezzo, presumo. Direi che finora la tappa diventa favorevole a Kalla perché credo che Kalla è corostele ma visto che Kovalt adesso sta prendendo un po' di terreno, visto che davanti il ritmo non è sostenuto, abbiano il tempo migliore. Tanto ricordiamo che in gara, al di là di Valbusa e Follis che oggi possono fare veramente una bella gara, ci sono anche Antonella Confortola e Magda Genuine che possono fare bene, soprattutto la Confortola direi. E un'altra che oggi deve recuperare tanto terreno è Christine Steira che finora ha un po' di luso, oggi è una chance importante per recuperare un po' di posizioni. E davanti non guadagnano sulla Kutunel, anzi la Kutunel sta rientrando. E questo è un problema in più per tutte, ma d'altronde tutte e tre le ragazze che sono lì davanti vogliono una maglia d'oro oggi, probabilmente, perché anche la Kovalcic vorrà provare nel finale qualcosa. Non saprei se sia la strategia giusta. Ovviamente la maglia d'oro va vestita poi in cima al Cermis, non tanto adesso, per cui guadagnare un po' di terreno non sarebbe una brutta idea. Comunque Calla ha praticamente dimezzato lo svantaggio in 3,8 km e dietro stanno rientrando su Roppone e Mischel, con Corosteleva sempre a tirare insieme a Jakobsen. Aspettiamoci un gran finale della Valbusa che è uscita soprattutto negli ultimi chilometri nella seconda tappa. Piccola pausa e poi torniamo. Classifica dei 3,8 km che possiamo vedere parzialmente, ma interessante soprattutto per il tempo della Corosteleva e di Sabina Valbusa in funzione di quel podio virtuale o anche di possibile vittoria, anche se la Calla oggi sembra davvero ingestibile per tutte quante. In questo momento in testa Corosteleva con 3 secondi di vantaggio su Cernod Calla. Quindi 3,8 km, un terzo abbondante di gara. Mentre Valbusa sarebbe in terza posizione provvisoria dietro le due che abbiamo citato. Da dietro vediamo un po' di capire se sta succedendo qualcosa di particolarmente interessante, ma non mi pare insomma. Beh, c'è Shevchenko che sta provando a risalire, però non si è ancora agganciato a questo trenino con tre tedesche che sono Sackenbacher, Kunzel e Zeller. È un po' il problema analogo della Steira anche. Steira che però è addirittura più indietro rispetto a Shevchenko. Shevchenko deve recuperare un minuto rispetto alla testa della gara. Per Steira direi molto di più, un minuto e venticinque. Ricordiamo anche un'altra cosa, che in virtù del discorso che abbiamo fatto precedentemente, il peso specifico delle sprint in questa edizione è maggiore. E quindi di questo terzetto, chi avrebbe interesse a provare ad attaccare e a staccare le altre, sicuramente la Kovalcic. Le altre due nelle sprint hanno qualcosa in più. Però in alternato la polacca chiaramente dice la sua. Però è arrivata in finale nella sprint che si è disputata a Praga, può essere competitiva anche perché magari qualche specialista delle sprint si ritirerà. Tanto la Kalla è sulla Kuitunen praticamente. E la salterà via facile. Se la Kalla arriva davanti poi cambia un po' la sceneggiatura della gara, perché la Kalla sicuramente proverà ad allungare. Non le conviene rimanere al passo di gente come Björgen e Kovalcic, che teoricamente in alternato vanno più forti di lei. Vediamo se Kuitunen riesce a tenere il passo di Kalla, ma non credo. Siamo proprio due categorie differenti in questa trattessa lì. È la questione che riguarderà Kuitunen e le altre tre. Cioè capire se la Kalla se ne può andare via da sola, oppure se rimangono lì. Allora in volata abbiamo già capito che la Björgen, se misura la distanza che può avere di margine, di ritardo, può anche recuperare nel finale. Lo ha fatto già nella seconda tappa. Sicuramente. Abbiamo già risposto dalla domanda che ci fa Stefano, perché voleva sapere in sostanza se fosse stato introdotto il tour deschiai ai tempi di Rabelmondo, quante coppe del mondo avrebbe vinto Stefani. Ne avrebbe vinte parecchie, perché era gara molto adatta alle sue caratteristiche. Poi era una di quelle che recuperava molto bene dagli sforzi. Ottimi materiali per la Follis, che ha guadagnato qualche metro nel tratto in discesa. Giustina Kovacic va a scavalcare Björgen, che sembra leggermente, non dico in difficoltà, ma sul chi va là. Tanto Kalla, praticamente le vede, riempieva breve. E Kuitunen a sua volta con buoni materiali riesce a mantenere il passo di Kalla in questo tratto in discesa non troppo impegnativo. Sì, è vero. E a proposito di buoni materiali, comunque dal clan azzurro è stato, insomma, sottolineato come la preparazione da questo punto di vista è stata veramente eccezionale. Tutti i ragazzi erano contenti di poter sciare in condizioni del genere, chiaramente. Quindi complimenti anche a tutto lo staff degli Ski Man. Speriamo che possa essere così anche domani. È domani fondamentale. Dove forse sarà più importante di oggi. Domani effettivamente... Si stacca Björgen, attenzione. Björgen mi sembra in difficoltà. È parecchio in difficoltà. Qualche volta lei maschera un po' la situazione, però adesso il gesto è abbastanza eloquente. Qui c'è poco da mascherare. Attenzione che prendono un leggero margine Follis e Kovalcic. E soprattutto Kutunen in compagnia di Kalla si può riportare sulla norvegese. Da dietro non si vede ancora nessuna. Al momento la sfida per la vittoria di Tappo è tra Kalla, Korosteleva, Valbusa e Shevchenko che è un'altra di quelle che sta risalendo forte da dietro. Vediamo le altre. Arrivare ai 5 e mezzo. Michel sta facendo uno straordinario tour dei ski. Sì, veramente. Allora, distacco di Korosteleva, 38. Andiamo a vedere perché è passato, non lo vediamo più in grafica. Sì, resta in testa Korosteleva per la vittoria di Tappo. Al momento è così, Valbusa, 41, 9 di ritardo. peccato abbia perso il treno della Korosteleva. Eh sì, Korosteleva che se n'è andata e rischia di andare a prendere anche Maidi e Ropponen. Però si sapeva che poteva essere molto competitiva a Schettin. Poi è alternato invece a dei problemi. Guarda che materiali la Follis che è molto più leggera della Kovalz che allunga. La Kalla addirittura ha saltato la Biong. La Biong è sparita dalle prime tre. Eccola qua. A questo punto si leva il pettorale oro virtualmente. È una battaglia tra le prime tre. Sì, diventa battaglia tra le prime tre. Parzialmente ovviamente perché poi, come giustamente ha detto Massimiliano, conta la fine. Vedere chi ha il pettorale oro. Vediamo se Kutun riesce a andare a prendere Bjorgen. È importante perché poi domani sulla carta si dovrebbero giocare la vittoria nella gara in alternato. Ci sono 20 metri in questo tratto di scelta tra Bjorgen e Kutun per cui in un tratto in piano saranno 4 secondi. Minispot per noi. Che vedete, in terza posizione c'è Kalla che va a riprendere le prime due proprio in questo tratto. Sai quello che probabilmente al passaggio era ancora davanti la Bjorgen? Probabilmente. Sì, sì, sì. Però poi dopo, alla fine della salita, Kalla, che qui è sulle code della Kovalcic, la Bjorgen non è così lontana però. Adesso in questo tratto rientra. Strategia un po' ad elastico. Tanto per la vittoria di tappa, Shevchenko si è riportata sui tempi di Kovasteleva. Vediamo un po'. Vediamo un po', perché c'è ancora chiaramente un altro giro ed è quello che conta. Secondo dei tre giri completato ma è molto in controllo mi pare Arianna Pollis. E adesso ha una parutissima cliente da affrontare. Ossia Cerdot Kalla che sicuramente a Schetting è la numero uno del circuito a mio modo di vedere. Da quello che abbiamo visto però Massimiliano a livello di sensazione, di gestualità, così, di body language, la Folli sembra quella che più pimpante rispetto a tutte le altre tolta la Kalla, chiaramente. Sì, sì, sì. In effetti è così. Bjorgen sta provando a rientrare in questo tratto in piano abbastanza adatto alle sue caratteristiche che però resta lì a una trentina di metri. E la Kutner si è di nuovo staccata. Sì, sì, sì. O quantomeno non è con la Bjorgen. Però comunque su Bjorgen oggi ha guadagnato terreno Bjerki Kutner perché doveva prendere 24 secondi alla norvegese ed è ne ha presi diciamo 18 per adesso ma i conti andranno fatti alla fine. Tendenzialmente la Bjorgen credo come tattica di gara ha la... Intanto la... Vediamo un po'. Sì, la Jakobsen con la Korosteleva si è staccata a Valbusa invece da questo trenino. Sì, c'è la Roponen lì davanti. Sì, la Roponen Mischel Jakobsen Korosteleva Rocheva e via tutte le altre tedesche. Le due tedesche Nistad Ogunzele e poi c'era anche chiaramente Sakenbacher. Questo è il tratto di percorso dove fa molta molta fatica Marit Bjorgen. o dove ne ha fatta in precedenza. Un tratto più duro. Intanto un amico chiede che visibilità avrebbe avuto il tour del ski se non fosse stato inserito nella Coppa del Mondo. Beh, ma insomma non può essere al di fuori del contesto di Coppa del Mondo. Sì, comunque non avrebbe avuta tantissima. Kuturen è galvanizzata dal fatto di avere Bjorgen lì davanti e cerca di andare a prendere. Oggi finora non ho grandissima prestazione per Marit Bjorgen. Invece Kalla rimanendo con con Follis e Kovac che a questo punto perde le chance di portarsi a casa la vittoria di tappa. O comunque ne ha meno perché dietro stanno andando molto forte. E' quello che succede inevitabilmente con questa gara. Attenzione alla Valbusa che vediamo quanto ritardo ha dal gruppone delle inseguitrici perché se le altre si guardano un po' troppo o comunque c'è la chance per lei di rientrare sarebbe positivo però sono meno di dieci secondi. Adesso comunque in testa Kalla con un secondino di vantaggio su Corostele va per la vittoria di tappa. Non abbiamo visto il tempo di Shorchenko che arriva adesso no Shorchenko è dietro però ancora in gara per portare a casa un podio di tappa. Certo che a livello proprio di conclusione della giornata la Kalla se non stacca soprattutto la Follis rischia di poi farsi beffare in volata come è successo dalla Bjorgen sempre nella seconda giornata del tour de schial femminile. Esatto tutto vero per cui la Kalla ci proverà breve ad andare via e ci sta provando proprio adesso Kovalcic fatica un po' a rispondere Follis però mi sembra pronta a tenere il passo di Cerdot Kalla. Sembra essere più impegnata la polacca a fare ritmo intanto la Kuitunen sembra averne come dice anche un amico che dice è in super forma la Kuitunen evita inutili fatiche corre con la testa e farà la gara nei prossimi tre giorni è probabile la Kuitunen di oggi sicuramente è più brillante di Bjorgen vediamo se Bjorgen riesce a rimanere con la Kuitunen se Bjorgen è in difficoltà le conviene magari restare dietro Virpi Kuitunen così se la trova come locomotiva nella gara di domani è l'ipotesi in cui Kuitunen riesca a recuperare 30 secondi nei confronti di Bjorgen intanto Giancarlo chiede se ci sono anche Sterra e Böhler in gara sì 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 il tempo di Sterra adesso lo andiamo a vedere anche Sterra sta andando abbastanza forte posizioni ne aveva recuperate però al momento a 1.20 di distacco partiva con 1.53 al momento potrebbe essere Sterra adesso a 1.14 ecco al momento è in testa Sterra per la vittoria di tappa sì va a scavalcare la Kalla Kalla probabilmente ha avuto riferimenti dai tecnici adesso sta spingendo un po' di più perché ci è portata davanti i conti comunque li faremo alla fine per questa vittoria di tappa Kovalsic a fatica resta con Kalla e Follis comunque bene anche la Confortola che quantomeno ha guadagnato sulla Bjorgen ha un minuto e mezzo di ritardo quindi sta facendo una buona gara sì Confortola non è riuscito a tenere la scia di Sterra che era con lei ecco forse questo è stato il limite della sua gara odierna però per il resto si sta comportando in maniera egregia attenzione che una che potrà risalire posizioni nella classifica è la Maidice comunque sia non magari nella Sprint ma domani nella Val di Fiemme potrebbe fare abbastanza bene sì potrebbe fare benissimo ma domani deve fare la differenza perché finora ha un po' sofferto in questo tratto in salita Kalla un altro passo Kovalcic cerca di andare a superare la Follis Follis che sta un po' accusando e Kalla inserisce le marce alte saluta la compagnia si ha preso qualche metro di vantaggio difficile andare a rispondere ci prova la Kovalcic vediamo se Rihanna riesce comunque a tenere magari in discesa non è proprio il suo terreno preferito a recuperare difficile tanto la Bjorgen è veramente un po' inchiodata adesso la Kuiton invece sale molto bene sta facendo una seconda parte in prospettiva di Tour de Ski molto buona ha preso una cotta tremenda la Bjorgen oggi e dietro sta risalendo molto forte con l'undici una tedesca che è la Kunzel la Kunzel si è la Kunzel che sta facendo una buona gara si con Roce va al suo fianco e con Rocele va subito dietro Kalla se n'è andata eh si però bisogna anche dire che è più forte in questa specialità è molto leggera Cerdot Kalla per cui in discesa parità di materiali Kovalcic potrebbe rientrare anche Follis per la verità leggerina va molto larga come sempre la Kovalcic in curva eh si è sempre un rischio rimanere dietro Kovalcic e Mariana Lunga ne sa qualcosa l'anno scorso ha pagato qualcosa l'atleta di Livigno che salutiamo con affetto le è caduta addosso in questo tratto di nuovo Kalla può provare a fare la differenza certo che la Kovalcic potrebbe dare una mano nel riportarsi sotto alla Follis che però prova ad uscire addirittura vediamo cosa succede in questo finale se Kalla non paga qualcosa magari nel finale anche se prendere questi metri poi nello scelto di fondo è difficile perderli MVP di giornata forse Virpicuto eh si sta andando oltre le sue possibilità e non è così lontana neanche da Kovalcic e Follis ma non soffre di mal di schiena nella skating teoricamente si e questa è la giustificazione per risultati non all'altezza dell'alternato in realtà dal punto di vista tecnico non vale le migliori allora siamo agli 8 e 8 manca ancora più di un chilometro 1200 metri il vantaggio è intorno ai 7 secondi allora Kalla aveva un vantaggio di 36 26 secondi su Corosteleva anzi 28 su Corosteleva poi Stera invece da Kalla pagava un minuto e 15 per cui aspettiamo i passaggi di Corosteleva e di e di Stera per capire chi vincerà questa tappa sempre la Kovalcic in seconda posizione questo è un tratto durissimo si volta per un attimo la Kalla anche la Shevchenko comunque va sottolineata insomma come una prova non straordinaria Corosteleva 9 secondi dietro Kalla la Bjorgen sta naufragando rischia di non finire nelle prime 10 posizioni in questa gara si sta in qualche modo tenendo qualche energia per domani oppure è crisi nera dai c'è poco da gestire problemi in questo tratto di scelta per Kalla che comunque adesso ha buon margine hanno doppiato il vantaggio almeno purtroppo non ho il tempo di stera Kovalcic ha staccato leggermente Arianna Pollic potrebbe essere anche tappa e maglia per Charlotte Kalla a questo punto non abbiamo ancora il tempo di stera agli 8 chilometro 800 metri a breve ci verrà dato faremo poi il definitivo confronto sta tenendo abbastanza bene comunque anche la Jacobson si Jacobson praticamente ha raggiunto Bjorgen perché nelle immagini viste in precedenza le due erano di fatto fianco a fianco situazione per la classifica generale del Tour de Schia ancora tutta aperta Arianna comunque non ha perso troppo contatto dalla Kovalcic io non lo so pensare che cosa possa fare Charlotte Kalla sulla scalata del Cermis e lì è meglio avere qualche secondo di vantaggio abbondante nei suoi confronti io direi anche un minutino o forse più per alcuni atleti tipo Bjorgen qui iniziò la rimonta di Bjorgen nei confronti di Kalla nella gara identica che abbiamo visto tre giorni or sono vediamo se ci riescono anche Follis o soprattutto Kovalcic che mi sembrava un attimino più pimpante di Arianna Follis sono praticamente dieci secondi Arianna vuole provare a difendere la seconda posizione del Tour de Schia però deve stare davanti la Kovalcic ormai sono le battute finali questa volta la Kalla si prende la maglia oro io se fosse Arianna sarei contento di arrivare dietro alla Kovalcic perché quantomeno domani mi parte 30 secondi dietro e eventualmente mi dà una mano è che un atleta in gara secondo me questi conti non li fa però li devono fare gli allenatori che sono a bordo pista perché se no non ci devono stare il ragionamento è giusto poi bisognerà capire quali saranno i distacchi lo sapremo dopo il meeting dei capitani comunque Kalla va a vincere e Follis è seconda taglia per primo il traguardo poi dobbiamo vedere se vince la tappa tanto Follis bravissima a rintuzzare la Kovalcic nel finale 8 secondi e mezzo solamente di ritardo è comunque una buonissima prova per la Follis Kovalcic terza grande Kutunen oggi si grande Kutunen allora aspettiamo l'arrivo di Korosteleva per andare nella singola tappa davanti a Kalla deve perdere meno di 28 secondi Korosteleva è già dietro in questo momento arriva la Kunzel poi Roche va Korosteleva 32 secondi e 4 Kunzel potrebbe essere la seconda di tappa poi Björgen arriva con 38 secondi praticamente insieme alla Jakobsen che non ha perso nulla nel finale arriva la Mischel oggi ha pagato qualcosina nell'ultimo tratto la Shevchenko sembra non essere un fattore sì però attenzione al suo tempo che potrebbe essere importante partiva con 1,18 55,6 credo che per il podio fino a questo punto Kalla e Kunzel aspettiamo l'arrivo di Steira Steira che agli 8,8 aveva 1,18 di ritardo arrivando adesso dovrebbe essere su quel tempo insomma con meno di 1,15 vince la tappa Steira però no niente da fare potrebbe essere sul podio di tappa sicuramente la tappa la vince a questo punto Charlotte Kalla per la seconda posizione a naso direi una tra Kunzel e Steira anche Steffi Boller però è andata forte però non quanto Steira non quanto Steira Balbusa oggi ha faticato un po' di più sì oggi una debacle perché ha perso terreno e qui arrivano Manninen e Sarinen sì sono loro due Muranen che sia davanti e poi la Sarinen subito dietro poi arriva la Confortola con la Majdice gli stacchi che iniziano a diventare importanti oggi una tappa favorevole a Christine Steira che ha recuperato posizioni e secondi rispetto a potenziale avversario domani sera potrebbe scalare altre posizioni in classifica battuta di giornata tutti gli effetti Marit Bjorgen oltremodo deludenti cambia protagonista la maglia oro è Charlotte Cala che vince anche la gara di giornata tanto Livio da Bucinasco che fa ovviamente auguri di buon anno che contraccambiamo vuole sapere vista la gara di oggi chi sono i favoriti e le favorite per la gara di domani Teichmann e Kutunel anche perché Teichmann almeno la sensazione che si sia tenuto qualcosa non ha speso molto finora nel finale a parte Pietro Piller e Checchi è stato più veloce in pista per cui oggi tra l'altro Confortola prende 43 secondi da Calla è andata bene 17esimo tempo 14esimo di Arianna Follis ma è vero che per lunghi tratti Arianna Follis è rimasta oltraino di Marit Bjorgen poi è rimasta lì auto praticamente Claudio Künzel Nustad la tedesca 38 Olga Roce Valarussa 31 e 6 Peccato ha perso moltissimo oggi Sabina Valvusa è scesa al 19esimo posto con un minuto e 20 di ritardo sei invece ben comportata Antonella Confortola 22esima a un minuto e 53 29esima Magda Genuina a 3 minuti e 27 41esima Karin Moruder a 5 minuti e 31 Lady of the Day cioè la classifica al di giornata vittoria di Charlotte Calla a Svezia secondo posto per Christian Störmer Steira Norvegia bentornata nei quartieri alti la numero 24 che è nella classifica del Tour de Schie a questo punto grazie all'exploit di oggi ma non è che sia salita notevolissimamente solo davanti a Sabina Valvusa 18esima Lady of the Day dicevo Charlotte Calla Svezia poi 3 secondi di vantaggio in questa singola prova su Christian Störmer Steira podio per Claudia Künzelnüster della tedesca il quarto posto per la tedesca Stefani Böhler a 8 secondi e 7 l'altra tedesca Efi Sachenbach Stile a 11 e 7 ho dimenticato la quarta Natalia Corosteriova russa che è andata bene poi Roceva Russia Olga Roceva Valentina Shevchenko Cristina Kowalczy Castel Jakobsen le italiane nella classifica parziale di giornata 14esima Rihanna Follis ma dicevo per alcune cose questo modo di far classifica di Coppa del Mondo all'interno di una prova di inseguimento lascia tempo che trova perché Rihanna Follis ma anche altre a lungo si sono dovute concentrare sulla lotta tattica di quel momento e quindi non hanno tirato a tutta chi tira a tutta dal primo all'ultimo metro ovviamente in questa classifica può essere davanti Anna Hanson 15esima